Tutti pazzi per la Binance Smart Chain che ormai è diventata un punto di riferimento per il mondo della DeFi. Questo principalmente grazie alle gas fee estremamente basse se paragonate a quelle di Ethereum e alla maggior velocità di transazione. Questi motivi l'hanno resa soprattutto appetibile alla clientela cosiddetta retail, ovvero a coloro che non hanno a disposizione milioni di dollari e quindi non sono disposti a pagarne centinaia per le fee di Ethereum. Visto che è così tanto utilizzata e c'è così tanto interesse anche da parte vostra, ho deciso di fare un video dove vi spiego tutto quello che c'è da sapere sulla Binance Smart Chain. Quindi che cos'è, come utilizzarla senza fare errori, perché è un attimo che si sbaglia qualcosa, si mandano i fondi da un'altra parte e li si perde per sempre. Basta veramente pochissimo. E inoltre vi faccio vedere quali sono le migliori piattaforme di DeFi sulla BSC, quelle che rendono di più ma presentando rischi contenuti, perché anche lì ovviamente c'è da fare attenzione a dove si va a depositare i propri fondi. C'è pieno di scam anche sulla Binance Smart Chain. Vi faccio anche vedere in modo pratico, quindi facciamo insieme le transazioni, come si utilizzano e di nuovo come non fare errori, mentre si ottiene la propria rendita su queste applicazioni DeFi. Seguitemi che sarà molto interessante. Buonasera amici, cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo dalle basi, ovvero che cos'è la Binance Smart Chain? La BSC, d'orin poi l'abbrevio con la sua sigla, è una blockchain di fatto alternativa a Ethereum. Immaginatevele come due blockchain parallele che possono fare più o meno le stesse cose. Di fatto tutte le applicazioni costruite su Ethereum sono potenzialmente compatibili con la Binance Smart Chain a patto ovviamente di farci qualche piccola modifica. Le principali differenze che la rendono un'alternativa a Ethereum sono il minor costo del gas, ovvero di eseguire ogni transazione sulla blockchain stessa, e la maggior velocità delle stesse transazioni. Questo ovviamente a costo della decentralizzazione. Il motivo per cui su Ethereum ci sono delle fii così elevate è il fatto che ci sono tantissimi nodi in giro per il mondo che vanno a validare i blocchi della blockchain, ve lo sto semplificando all'estremo, mentre sulla Binance Smart Chain c'è un numero ristretto di nodi. Questo, ripeto, causa una maggior centralizzazione, ma migliori performance. Attenzione a non confondere Binance Chain con Binance Smart Chain, perché anch'esse, nonostante siano entrambe sviluppate da Binance, sono due blockchain distinte. La Binance Chain è semplicemente una blockchain su cui muovere dei token, degli asset. La Binance Smart Chain invece ha appunto la componente smart in più, ovvero la possibilità di eseguire smart contract e applicazioni decentralizzate. La Binance Chain ha lo standard BEP2, la BSC ha lo standard BEP20. Bisogna fare attenzione perché nel prelevare da Binance, ad esempio, si può scegliere entrambe le chain e sono due destinazioni diverse. Il trasferimento dei fondi da Binance o da un wallet esterno alla Binance Smart Chain è proprio uno dei punti cruciali da saper fare benissimo, non bene, per evitare di buttare i propri fondi. E quindi sarà proprio la prima cosa da cui partiamo in questo tutorial. Adesso giro un attimo lo schermo inquadrando il mio PC e andiamo a vedere come configurare Metamask per connettersi alla BSC e come trasferire in sicurezza i propri fondi o da Binance o da un wallet esterno sulla BSC. Seguitemi! Metamask è indubbiamente l'interfaccia più comoda per andare a interagire con le applicazioni decentralizzate e le applicazioni DeFi. Il motivo è che si tratta di un'estensione del browser e permette quindi attraverso il browser, tramite il browser, di andare a interagire con queste applicazioni, cosa abbastanza fondamentale. Per installare Metamask sul proprio browser occorre Chrome o un browser compatibile con le estensioni di Chrome e occorre scaricare Metamask. Fate molta attenzione nel download di andarlo a scaricare dal suo sito originale metamask.io. C'è pieno di fake che se li installate vi prosciugano i fondi. Quindi vi raccomando di fare estrema attenzione. Vi lascio il link nella descrizione. Una volta installato potete scegliere di creare un nuovo wallet direttamente da Metamask, che vedrete qui in alto a destra tra le estensioni col simbolino della Volpe, oppure potete importare un wallet che già avete altrove. Come sapete il wallet è un qualcosa che è sulla blockchain, quindi non è installato sul PC, non è installato su Metamask, semplicemente Metamask, così come Trust Wallet, così come Exodus, è un modo per accedervi. Ovviamente se importate un wallet che avete già creato altrove, occorreranno le... o la chiave privata o le 12 parole del seed. Se ne create uno nuovo da Metamask, vi fornirà lui le 12 parole, mi raccomando, tenetele al sicuro e conservatele, oppure l'ultima alternativa è importare un portafoglio hardware, che è un pelino più complicato, quindi non ne parlo oggi. Se avete bisogno di una mano, avevo fatto un video in passato su come collegare Metamask al Ledger. In ogni caso sappiate che si può fare. Io oggi, per semplicità, ho creato un wallet ad hoc tramite Metamask, sul quale ho depositato un po' di BNB e vi faccio vedere poi come si utilizzano le applicazioni utilizzando questo wallet. Una volta installato, Metamask punta sulla blockchain Ethereum. Pertanto la prima cosa da fare è puntarlo sul BSC. Come si fa? Allora, io vi lascio sempre in descrizione questo articolo della Binance Academy che vi servirà perché ci sono i parametri da inserire in Metamask. Come si fa a inserirli? Allora, clicchiamo sulla nostra Volpe, accediamo all'wallet. Una volta fatto, vedete che qua in alto c'è questo menu a tendina che ci permette di scegliere la rete. Noi di default saremo su Rete Ethereum, ok? Vedete che il bilancio è diverso perché io su questo wallet, il cui address è il medesimo, vi ricordo, ve l'ho detto all'inizio, la BSC è compatibile Ethereum. Pertanto il sistema di chiavi pubbliche e private, ovvero gli address sono gli stessi, quindi non dovete depositare su un address diverso, l'address è sempre lui, sia su Ethereum che su BSC. In ogni caso, vedete, se mi collego a Ethereum mi vede 0.08 Ether, se mi collego a BSC me ne vede 1.99 BNB. È lo stesso address su due blockchain diverse e parallele e vede ovviamente due asset diversi. Per andare a creare la prima volta BSC, che ovviamente non c'è, voi lo vedete perché io l'ho già aggiunto, occorre cliccare RPC personalizzata. Vedete che i dati che vi richiede sono esattamente quelli che vedete qui, quindi è sufficiente fare dei copy and call di questi dati, attenzione agli spazi se fate copia e incolla, e poi cliccare Salva. Una volta fatto, potete scegliere dal menu a tendina la vostra BSC mainnet. Qui la chiama Smart Chain, io l'ho chiamata BSC mainnet, non cambia assolutamente nulla. Nel nome potete scrivere anche Pippo Pluto, è esattamente la stessa cosa. Una volta collegato alla BSC mainnet, siamo pronti a depositare i nostri fondi sul nostro wallet Metamask collegato alla BSC e usarli poi sulle applicazioni DeFi BSC. Ora che abbiamo configurato il nostro wallet, ovviamente sarà vuoto, e quindi la prima cosa da fare è prelevare fondi da destinare al nostro nuovo wallet, da usare poi sulle piattaforme DeFi. Per farlo ci sono due metodi. Il primo, nonché il più semplice, è farlo direttamente da Binance, che quando andate a selezionare il coin che volete prelevare, vi consente di prelevarla anche sulla Binance Smart Chain. Vi ricordo di nuovo, non Binance Chain, ma Binance Smart Chain. Sono due cose diverse. Una volta selezionato, io ad esempio qui ho scelto Bitcoin, voi semplicemente andate a inserire la vostra quantità, il vostro address, così come fate normalmente, però chiaramente andate a inserire l'address che abbiamo appena creato, che abbiamo appena generato o importato su Metamask. Nel giro di pochi minuti, ci mette veramente poco, i fondi vi saranno accreditati. Vi faccio, sottolineo una cosa. Allora, sulla Binance Smart Chain, per fare qualsiasi transazione, è necessario pagare il gas in BNB. Pertanto, se io adesso, ad esempio, prelevassi dei Bitcoin e li mandassi sul mio wallet BSC, poi non li potrei muovere perché non ho dei BNB da utilizzare per pagare il gas. Quindi il mio consiglio è di prelevare innanzitutto un po' di BNB da utilizzare per le fee e poi prelevare il resto se necessario. Teoricamente si può anche soltanto prelevare BNB e poi utilizzare, ad esempio, Pancake Swap o le altre applicazioni per scambiarli con le altre coin che ci servono da usare sulle app DeFi. Il secondo metodo è il cosiddetto Binance Bridge. La differenza, perché ve li sto mostrando tutti e due, se ho detto che è più semplice Binance, perché se voi, ad esempio, avete delle cripto sul Ledger e le volete trasferire direttamente su BSC, magari non avete voglia di depositarle su Binance e poi prelevarle. Pertanto è possibile utilizzare, appunto, il Binance Bridge. In sostanza, binance.org slash bridge è il sito da raggiungere. Noi dobbiamo innanzitutto collegare, selezionare la versione 2, che è la nuova. Collegare il nostro wallet tramite, ovviamente, MetaMask. Vedete che ce l'ha subito visto e ce lo vede collegato su Binance Smart Chain. Assicuratevi che nel menu a tendina sia selezionata la Binance Smart Chain. Come vedete, ci viene subito importato il nostro address come address di destinazione, ovvero, noi stiamo dicendo al Binance Bridge sposta i fondi che adesso ti andrò a dare sul mio wallet BSC MetaMask. Ok? Adesso la domanda da farsi è che cosa voglio andare a trasferire su BSC? Quindi, prima cosa da fare, selezionare l'asset. Che ne so, Ethereum, per esempio. Da che blockchain? Quindi Ethereum Network, ovviamente, perché su Ethereum non c'è molta scelta, verso Binance Smart Chain. Ok? Quindi io vado a scegliere l'ammontare e posso selezionare, vedete, per il motivo che vi ho detto prima, che servono i BNB per pagare il gas, se voi state trasferendo, ad esempio, solo Ethereum, come in questo caso, potete flegare che volete anche swappare parte degli Ethereum che avete in BNB per tenerne un po' per pagare il gas, molto comoda questa feature. Ok? Qui sotto vi dice quanto andrete a ricevere, fatta già la conversione in base ai BNB che avete scelto di volere nel wallet per il gas, fate next, vi verrà dato un address a cui dovete mandare gli Ethereum, ok? Oppure le coin che avete selezionato qua in alto. Voi mandate a quell'address, lui fa lo swap e ve li rimanda sul vostro wallet Metamask su BSC. E adesso siamo pronti per interagire con le applicazioni DeFi. Per avere una panoramica sulle migliori applicazioni di DeFi, io vi consiglio questi due siti. Il primo, dapradar.com che non è esclusivo BSC, ma come vedete, potete andare a scegliere BSC per vedere una classifica in sostanza delle applicazioni, delle dap per l'appunto presenti su BSC. Potete metterle in ordine per balance, users, volume, eccetera, eccetera. Ancora più bella, secondo me, perché ho notato alcune imperfezioni in questi dati, non ho capito ancora il motivo, è DeFi Station che invece è esclusiva a Binance Smart Chain. Su DeFi Station.io potete vedere innanzitutto l'andamento della liquidità bloccata nelle piattaforme DeFi su BSC e qua sotto potete vedere una classifica con dei dati che invece mi tornano. Potete vedere la classifica ordinata di default per liquidità bloccata appunto nella piattaforma stessa, utilizzata nella piattaforma stessa, ma potete anche ordinarlo per volume e per altri dati. Ignorate questo qui che trovate in cima perché come vedete è add, quindi è sponsorizzata, la classifica inizia con Pancake Swap. Io oggi vi parlerò di Pancake Swap, Venus, Autofarm e Pancake Bunny che secondo me sono quelle più interessanti e vi dirò il perché strada facendo. Vi faccio vedere anche come si usano step by step facendo anche le transazioni per mostrarvi proprio come interagire con le DAP stesse. Iniziamo subito da Pancake Swap che è quella che cuba al momento una liquidità maggiore superiore addirittura ai 4 miliardi. Pancake Swap è un exchange decentralizzato pertanto nasce con lo scopo di permettere a chiunque di scambiare una cripto per un'altra e di fatto se voi andate su Trade Exchange è quello che vi permette di fare, ok? Voi potete scambiare qualsiasi coin che vedete in questo elenco con qualsiasi altra a patto ovviamente che ci troviamo su Binance Smart Chain quindi il revenue l'utile il ricavo generato da Pancake Swap si basa proprio su questo innanzitutto chiunque va a fare un trade uno scambio paga una fee che è all'incirca dello 0,3% e questa fee va in parte alla piattaforma e in parte a chi fornisce la liquidità perché sono sicuro che se voi state guardando questo video siete interessati a fornire liquidità perché di fatto è un ottimo modo per ottenere una rendita passiva sui propri depositi io che vado a fornire liquidità otterrò ripeto la rendita grazie a coloro che vanno a fare i trade non è l'unica fonte di rendita però perché c'è anche il cosiddetto farming cosa vuol dire farming? vuol dire che se voi andate su farms lo vedete subito per alcune coppie tipo cake BNB eccetera eccetera se io vado a dare liquidità a quel pool e tra poco andiamo a vedere cosa significa e come si fa oltre alla rendita derivata dalle fee pagate da chi fa i trade andrò a guadagnare dei token cake che mi darà l'exchange stesso perché fa questo? per incentivare le persone a depositare liquidità sulla loro piattaforma maggiore è la liquidità all'interno di un DEX e maggiore è la sua efficienza quindi loro hanno interesse ad attirare più liquidità possibile pertanto creano questi programmi che si chiamano appunto di liquidity mining o yield farming finalizzati a premiare chi dà liquidità anche con il token cake che di fatto è poi il ricavo maggiore perché è molto maggiore delle semplici fee per il liquidity provider che è la persona che appunto va a dare liquidità partiamo però da zero cerchiamo di capire quali step bisogna fare per andare a dare liquidità a un pool e a guadagnare la nostra rendita innanzitutto dobbiamo collegare il wallet qua in alto a destra ci sarà connect wallet se non l'avete mai fatto scegliete di farlo tramite metamask vi chiederà una semplice conferma che non costa nessun tipo di fee una volta fatta qua in alto voi vedrete il vostro address come conferma una volta fatto questo noi dobbiamo innanzitutto avere in mente su quale pool vogliamo andare a dare liquidità per sceglierlo possiamo andare a vedere sotto farms ad esempio quelli che rendono di più oppure quelli più tra virgolette sicuri cosa vuol dire sicuri allora ovviamente un APY dell'800% fa gola però da un lato è vero c'è l'APY così alto dall'altro abbiamo dei token pressoché sconosciuti io non so che token sia questo e quale sia il suo scopo nel mondo ma sappiate che quando si va a dare liquidità a un pool noi è come se acquistassimo per metà uno di questi due token e per metà l'altro quindi se io ad esempio vado a dare liquidità alla coppia XMark BUSD è come se andassi a utilizzare la mia liquidità i miei BNB quello che è per acquistare a metà token XMark e a metà BUSD quindi se per dire XMark dovesse andare a dampare io realizzerei una perdita importante sicuramente superiore all'APY ok quindi molta attenzione seconda cosa da tenere in considerazione è che l'APY è molto variabile nel tempo oggi vedete una cifra domani ne vedete un'altra perché di fatto varia in funzione di numerosi parametri in primis la liquidità maggiore è la liquidità tendenzialmente minore è l'APY ma maggiore è anche la sicurezza poi del pool seconda cosa i volumi all'interno di quel pool perché come vi dicevo prima parte del rendimento è dovuto dai trader che scambiano quindi più trader scambiano più ricavi ci sono per i liquidity provider inoltre a questo dobbiamo aggiungere il rischio di impermanent loss il che vuol dire che quando i due token contenuti in un pool divergono in prezzo ad esempio XMark pompa o dampa noi andiamo a realizzare un'ulteriore perdita ok quindi se per ipotesi XMark dumpa noi ok abbiamo questo IPY che ripeto è variabile domani potrebbe essere diverso poi abbiamo la perdita dovuta al dump e la perdita dovuta all'impermanent loss quindi attenzione a conoscere molto bene questi concetti prima di avventurarsi se vi interessa quantificare quanto sarebbe l'impermanent loss in base alla variazione di prezzo dei due asset potete andare su CoinMarketCap sotto la scheda Yid Farming e trovate questo impermanent loss calculator in sostanza dovete andare a mettere sotto ipotesi abbiamo detto del pool che abbiamo visto prima quindi una delle due coin è BUSD e non cambia di prezzo perché è stable se l'altra ad esempio pompa del 30% io avrò una impermanent loss del 0.85% quindi molto ridotta se fa meno 50% avrò il 5.72% e così via ok tendenzialmente maggiore è il cambio sia che sia rialzo sia che sia ribasso e maggiore è la impermanent loss che si va a sommare al guadagno o perdita dato dall'aumento o dal calo di prezzo del token e al guadagno dato dallo yield farming quindi queste sono le cose da tenere in considerazione pool weight è sempre 50-50% perché su PancakeSwap come vi dicevo le due coin all'interno di un pool sono sempre equidistribuite quindi come scegliere il pool nel quale dare liquidità ecco questa forse è una delle domande più interessanti io quello che faccio è ordinarli per liquidità perché di fatto laddove c'è maggior liquidità tendenzialmente c'è più stabilità anche sull'APY la seconda cosa da tenere in considerazione è i due token contenuti all'interno del pool io li vorrei detenere oppure no perché secondo me non ha nessun senso dare liquidità a un pool con due crypto a caso solo perché l'APY è alto ve l'ho detto se domani ad esempio il mercato inciampa e c'è un dump complessivo l'APY si abbassa in maniera esorbitante fidatevi e inoltre vi beccate il dump dei due token che se sono altcoins conosciute tendenzialmente è decisamente alto quindi il mio consiglio è se si vuole rimanere il più cauto possibile ci sono addirittura i pool di sole stable coin come USDT BUSD oppure USDC BUSD ovviamente l'APY non sarà elevatissimo però non ci sono particolari rischi la liquidità è abbastanza alta l'APY è dignitoso e soprattutto non c'è volatilità non c'è impermanent loss altrimenti conviene scegliere un pool di due coin che avreste voluto holdare comunque ad esempio siete holder di BNB il pool di USD BNB è ottimo perché espone soltanto alla volatilità di BNB che non è spropositata e inoltre è un metodo per essere esposti anche a BNB e ottenere oltre a tutto questo un APY dell'80% se volete esporvi a CAKE e BNB abbiamo questo pool con un APY molto interessante e con la liquidità massima ok quindi valgono un po' questi discorsi che abbiamo appena detto supponiamo di volerci esporre al pool BTCB BNB BTCB è la versione tokenizzata su BSC di Bitcoin stesso quindi io voglio holdare sia Bitcoin che BNB mi espongo alla volatilità di entrambi e all'impermanent loss della variazione di prezzo dovuta alla variazione di prezzo tra Bitcoin e BNB allora non dobbiamo partire da qui perché qua ci arriviamo tra poco il primo step è dare liquidità al pool o meglio il primo step è avere le due coin per dare liquidità al pool noi vi ricordo che partiamo con soli BNB io ho prelevato un paio di BNB quindi dobbiamo avere metà in BTCB e metà in BNB poi andare a dare liquidità al pool otterremo i token si chiamano LP poi torneremo qui e metteremo in staking i token LP e in quel modo inizieremo a farmare i cake allora facciamo una cosa alla volta prima cosa trade exchange ricolleghiamo il nostro wallet perché l'exchange è visto come un'app diversa vedete che lui ci carica il nostro balance in BNB noi vogliamo cambiare in BTCB quindi lo andiamo a selezionare eccoci qua e noi cambiamo facciamo uno 0.9 BNB in BTCB perché 0.9 che è un po' meno della metà perché così mi tengo qualcosa per pagare il gas anzi facciamo 0.8 per sicurezza qua sotto mi dice quanto andrò a pagare di fee e quanto slippage ovvero divergenza dal prezzo reale ci sarà al massimo sul mio scambio io vado a confermare lo scambio qui mi dice quello che accadrà clicco confirm swap mi arriva l'input da metamask e andrò a cliccare di nuovo conferma in questo modo la transazione è stata lanciata sulla BSC verrà elaborata e nel giro di poco tempo di solito una decina di secondi massimo mi verranno accreditati i miei BTCB in cambio dei BNB ecco fatto una volta fatto questo posso andare a dare liquidità al pool come si fa? posso cliccare direttamente qui liquidity oppure liquidity qua nel menu laterale noi facciamolo da qui allora liquidity noi vogliamo andare ad aggiungere liquidità a un pool se avessi già fatto un'operazione del genere qua sotto mi direbbe a quali pool sono andato a dare liquidità add liquidity e qua dobbiamo scegliere di nuovo manualmente il nostro pool quindi abbiamo detto BNB e BTCB eccolo qua vedete adesso io posso scegliere quanto andare a dare se io clicco max su BNB come vedete non posso perché io ho cambiato un po' meno BTCB ve l'ho detto serve metà e metà quindi io prendo la coin a maggior balance delle due a minor balance scusate delle due nel mio caso BTCB clicco max e mi autocalcola lui quanti BNB ci vorranno per avere una pari quantità di liquidità su entrambe le coin vi ricordo tenete sempre un po' di scorta di BNB per il gas perché se li finite non riuscite più a far niente dovete poi trasferirne altri una volta deciso questo io per prima cosa devo approvare cosa vuol dire vuol dire che devo permettere allo smart contract di questo pool di spendere i miei BTCB io lo confermo e quindi l'ho approvato ovvero io posso adesso andare a dare liquidità come avete visto c'è un piccolo costo di gas per fare questa operazione aspetto che arrivi che venga confermata la transazione di approvazione e una volta fatto questo io vado a confermare il deposito della mia liquidità all'interno di questo pool ecco fatto è passato saranno passati 15 secondi e non c'è più approve ma c'è supply attenzione l'operazione di approvazione va fatta una sola volta cosa vuol dire che se domani dopo domani torneremo a dare altra liquidità sempre a questo stesso pool con il medesimo address non dovremo più fare approve se cambiamo address o se cambiamo pool dobbiamo invece riapprovarlo perché ve l'ho detto in sostanza associa il vostro address a quello smart contract ora facciamo supply ci viene ricapitolato quello che facciamo ovvero noi andremo a ottenere in cambio di 0.798 bnb e 0.00385 quello che è btcb andremo a ottenere 0.0525693 bnb btcb pool tokens che sono i famosi lp ok cosa vuol dire vuol dire che questi pool token rappresentano la nostra quota immaginatevi che sono delle azioni che come se fossero delle azioni di questo pool di liquidità complessivo noi andando a dare questa quantità di liquidità avremmo lo 0.00042% del pool complessivo ovviamente a un pool che abbiamo visto a 50-60 milioni di dollari di liquidità noi ci andiamo a mettere dentro cos'è che era 200 dollari 250 abbiamo una quantità minima questa quantità è determinata è provata dal possesso di questi lp noi confermiamo e di nuovo ci viene inviato il prompt della transazione di nuovo da confermare aspettiamo di nuovo una quindicina di secondi e poi ci verranno accreditati i token lp eccoli qui ok quindi adesso qua sotto potete vedere che abbiamo 0.05257 token lp che corrispondono a questa quantità di btcb e bnb questa quota del pool rimane fissa il che vuol dire che qualora i trader vanno a pagare le fee perché scambiano bnb per btcb e le fee vanno a finire nel pool il pool cresce la nostra percentuale le nostre azioni rimangono le stesse quindi quando io andrò a riscattare la mia liquidità ne andrò a riscattare un po' di più perché nel mentre il pool è cresciuto grazie alle fee di coloro che hanno fatto gli scambi e questa è la prima forma di rendita che il dare liquidità ci garantisce la seconda è il farming che lo andiamo a vedere ora per vedere tutti i token lp che possiedo è possibile andare sotto la voce trade liquidity e come vedete ci viene caricato qua sotto dove prima non c'era niente al momento il nostro la nostra liquidità caricata su btcb bnb nonché i nostri 0.05257 lp adesso per massimizzare il guadagno che si può ottenere da pancake swap vogliamo anche andare a utilizzarli per farmare quindi ritorniamo sul nostro farms e andiamo a recuperare il pool che abbiamo scelto quindi andiamo di nuovo a ordinare per liquidità oppure possiamo anche cercarlo eccolo qua btcb bnblp se noi ci clicchiamo sopra possiamo innanzitutto andare anche qui ad approvare lo smart contract quindi la prima cosa da fare è sempre questa enable lui ci va a fare una piccola transazione che consente come quella di prima di associare il nostro address con questo smart contract la confermiamo aspettiamo quella quindicina di secondi che ci vogliono per la conferma tac e poi possiamo andare a mettere in stake i nostri lp ovviamente ci vogliono i btcb bnblp noi ce li abbiamo perché li abbiamo recuperati poco fa quindi stake lp noi vedeteci precarica il nostro balance mettiamo tutti confermiamo di nuovo c'è la transazione per andare a mettere in stake i nostri token una volta confermata la transazione il gioco è fatto e noi stiamo iniziando oltre a guadagnare le fee a farmare i token cake guardate è già stato fatto qui nei btcb bnblp staked abbiamo 0,053 che è la nostra quota come vedete si è già illuminato il pulsante harvest perché il farming dei cake avviene praticamente in tempo reale ovvero noi abbiamo dato liquidità e a ogni blocco della bsc che se non erro ha un block time di un secondo o qualcosa del genere noi andiamo a ottenere dei token cake una piccolissima frazione infatti adesso è ancora invisibile ma se aspettiamo uno due minuti quello che è inizieremo a vedere le prime frazioni di cake sta di fatto che se noi abbiamo i token lp stiamo guadagnando le fee sui trade sul pool se noi abbiamo messo in stake i token lp oltre alle fee stiamo guadagnando i cake una volta fatto questo se noi torniamo nella home page vedete che abbiamo già qua nel nostro nella nostra schermata farms and staking la possibilità di fare harvest all perché se noi avessimo diversi lp messi in staking che stanno farmando cake io da qua posso andare a fare harvest ovvero recuperare i cake che sto farmando e scaricarmeli sul wallet ok quindi questa è una cosa da fare ogni tanto non ha senso farla in continuazione perché poi la cosa bella è che gli stessi cake volendo io li posso mettere ulteriormente in staking per guadagnare altri cake se io vado all'interno di pools vedete qui abbiamo un'altra categoria di rendite finora abbiamo visto il farming quindi liquidità nei pool ottenere lp farmare con lp qua c'è un metodo un po' più semplice nel senso è un banale tra virgolette staking ovvero io vado a mettere in staking solitamente cake è per tutti i cake qua mi pare o quasi e ottengo in cambio dei token esempio questo pool il cake pool mi permette di ottenere dei cake mettendo in staking i miei cake il watch pool mi permette di ottenere il token watch mettendo in staking i cake e così via per tutti questi pool ok in sostanza io metto in staking il token cake ottengo questi altri token con un apy ulteriore pari a quello che leggo qua sotto quindi i cake che io sto guadagnando con il farming che adesso non sono neanche 0.0001 io ogni tanto faccio il mio harvest e li posso utilizzare a loro volta per farmare altri token questo ovviamente non preclude il comprare direttamente il token cake e metterlo direttamente in questi pool questa è una scelta che si può fare in ogni caso per massimizzare la rendita conviene fare quello che abbiamo visto finora più fonti di rendita si hanno e maggiore è la rendita stessa inoltre per terminare ci sono le cosiddette IFO come funzionano allora sono delle sorte di IEO tipo i launchpad di Binance ma che funzionano in modo un po' particolare vi faccio un esempio con l'ultima un esempio pratico che adesso è già finita in sostanza qua per partecipare occorre andare a dare i propri token cake BNB LP cosa vuol dire vuol dire che si va a fare quello che abbiamo fatto finora con il pool cake BNB quindi ottenere cake BNB 50-50 dare liquidità ottenere l'LP l'LP lo andiamo a destinare alla IFO anziché al farm ok quindi alla fine dell'IFO in base a quanti token LP vengono dedicati ad essa questi token verranno prelevati perché io sto andando a pagare il token nuovo mi viene dato il token nuovo e basta e i token LP in eccesso nel caso in cui la mia partecipazione dovesse eccedere il massimo possibile purtroppo non ve lo posso far vedere concretamente perché non c'è un IFO in atto ma il funzionamento è esattamente questo è anche interessante dal punto di vista della tokenomics di cake perché i cake ottenuti dai pool che si vanno a dare per l'IFO vengono bruciati e quindi si riduce la supply che è una cosa utile per fargli ottenere poi valore nel tempo mentre i BNB che facevano parte del pool vengono dati al provider del token e ovviamente in cambio noi otteniamo il token infine c'è la lotteria che è un altro giochino che si può fare con i cake in sostanza utilizzando i miei cake posso andare ad acquistare dei biglietti della lotteria che hanno dentro quattro numeri e in base al numero di numeri che indovino io ottengo un certo premio il premio banalmente è dato dall'insieme di tutti i cake utilizzati per comprare i ticket che in parte anche in questo caso vengono distrutti vengono bruciati e in parte ridistribuiti come premio può essere interessante anche questo insomma anche qui bisogna per prima cosa provare cake poi acquistare i ticket e una volta acquistati li si vede qua sotto ci sono delle estrazioni ogni tot più o meno una al giorno mi pare se non ricordo male per terminare facciamo il procedimento inverso avvero andiamo a recuperare i nostri fondi come si fa? allora noi ritorniamo innanzitutto su farms che è dove abbiamo messo in staking il nostro token possiamo flaggare staked only così ci fa vedere laddove abbiamo della liquidità nostra espandiamo e la prima cosa da fare ecco qua ho già guadagnato ben 0.002 usd di cake volendo potrei fare l'harvest ma spenderei di più in fee che in cake ottenuti la prima cosa da fare è cliccare sul meno qua ovvero tirare via unstake i nostri token lp lo confermo e riottengo indietro i miei token lp in questo momento sto smettendo di guadagnare cake su questo pool ma non sto ancora smettendo di guadagnare le fee dei trader perché? perché lo step successivo è ritornare in trade liquidity adesso io ho i miei token lp svincolati perché non sono più in staking me lo sta caricando me lo mostrerà qua sotto la mia liquidità e una volta che me la mostra e una volta che me la mostra io posso selezionarla e fare remove io vado a scegliere max anche in questo caso approvo di nuovo perché qui sto facendo l'operazione opposta rimuovo confermo di nuovo spendo gas su metamask e una volta fatto questo non avrò più i miei token lp ma riavrò indietro btcb e bnb in una quota sempre 50-50 che se li ho lasciati depositati a lungo è cresciuta rispetto a quando li ho depositati perché ripeto si sono accumulate nel mentre le fee dei trader nel mio caso non è così anzi probabilmente ci ho soltanto perso perché tra fee e gas e quant'altro visto che abbiamo fatto il tutto in pochi minuti non ci ho sicuramente guadagnato nulla sulle piattaforme di questo tipo più a lungo si lascia depositati i fondi e più ovviamente il guadagno è alto perché poi si vanno a recuperare immediatamente i costi delle fee se infine voglio riportare i miei fondi su Binance posso decidere di convertire i btcb in bnb oppure di inviare direttamente prima i btcb e poi i bnb perché vi ricordo che l'invio costa bnb ai nostri address di Binance attenzione che sono tutte Binance Smart Chain quindi quando vado a fare deposit su Binance devo accertarmi che sto andando a scegliere il network Binance Smart Chain e questo è quanto per ciò che riguarda Pancake Swap adesso andiamo a vedere rapidamente le altre piattaforme che vi menzionavo rapidamente perché di fatto non stiamo a fare una una tutte le transazioni in quanto il funzionamento è esattamente identico anzi molto più semplice di Pancake Swap ma andiamo solo a capire i passaggi necessari da sapere al fine di utilizzare queste app quindi partiamo da Venus se su Pancake Swap dovevo fare tutto il passaggio della liquidità lp mica lp qua è estremamente semplice perché vado a dare liquidità direttamente nell'asset stesso quindi vado su venus.io vado a collegare il mio wallet metamask mi carica il mio balance qua dentro vado a scegliere in base al rendimento e alla coin che voglio andare a dare come liquidità e quindi voglio anche detenere perché di fatto sono esposto a quella coin la vado a selezionare prendiamo come esempio BNB sotto supply market chiaramente vado a scegliere quanti BNB voglio andare a depositare sulla piattaforma qua mi ha precompilato col massimo e qua mi dice guardate che otterrò un rendimento annualizzato del 6,67% in BNB direttamente perché è il rendimento che mi dà chi prende in prestito i miei BNB vi ricordo che qui è una piattaforma di credito debito in sostanza di lending e un 4,62% in token XVS distribuiti dalla piattaforma XVS è il token di venus stesso che la piattaforma distribuisce sempre per incentivare le persone a depositare liquidità classica logica di liquidity mining attenzione il nostro borrow limit sale a 170 dollari perché? perché di fatto io sto andando a depositare collaterale e quindi posso andare se voglio anche a prendere un prestito da venus la cosa interessante è andare a potenziare ancora di più questo ipy con quello di vai vai è la stable coin di venus e in sostanza la si può andare a creare una volta che si è depositato del collaterale come si fa? allora io deposito per la prima cosa bnb poi vado su mint repay vai posso andare a creare dei vai io adesso qui non posso perché non ho depositato il collaterale in base al mio borrow limit che abbiamo visto prima ok? quindi ovviamente sarà in percentuale perché non è che posso utilizzare tutto il controvalore che ho messo per andare a creare dei vai ma in percentuale io posso andarli a creare faccio questo minting si chiama io avrò queste stable coin quindi nel mio wallet e poi se voglio vado nel vault e le metto in staking per ottenere un ulteriore APY del 18% sui vai stessi l'APY è ottenuto in XVS il rendimento ok? se vi sembra difficile che in realtà non lo è ma se vi sembra difficile c'è autofarm che fa tutto questo per voi in sostanza cosa vuol dire? vuol dire che su autofarm io semplicemente vado a selezionare l'asset che voglio andare a dare su Venus e lui fa tutto il lavoro sporco per me cosa vuol dire? allora facciamo un passo indietro autofarm è una piattaforma che utilizza come sottostante le altre piattaforme DeFi in primis PancakeSwap e Venus per questo ve lo sto facendo vedere come terza e farm per voi come guardate facciamo un esempio pratico supponiamo di avere dei BUSD io li voglio andare a mettere a rendita autofarm mi dà il 35% annualizzato come fa? allora si appoggia a Venus come vedete qua sotto quindi lui è come se io andassi a fare direttamente su Venus da BUSD andare a dare liquidità e poi andare a creare i VAI lo fa per me inoltre mi reinveste ogni volta i profitti e inoltre mi dà un APY ulteriore nel token auto che è il suo sempre per incentivare la liquidità solito discorso quindi io semplicemente tutto quello che devo fare è collegare il wallet ad autofarm andare a dare in liquidità i BUSD e lui fa tutto su Venus io alla fine preleverò BUSD e andrò a fare harvest dei token auto che nel mentre farmerò tutto qua estremamente semplice il rendimento è dato dal 19.2% di farming su Venus più il 15.8% di auto totale 34.9% attenzione ci sono alcune piccole fee ovvero sui profitti viene prelevato 0.6% e 0.5% dalla piattaforma solo sui profitti e un 1.5% su quello di auto ok quindi queste sono le fee inoltre c'è una fee di entrata minore cioè massima dello 0.1% sul capitale depositato quindi questo va sensibilmente ad abbassare l'APY ok e anche in questo caso conviene tenere il deposito più a lungo per andare a assorbire meglio soprattutto la entrance fee infine l'ultima perché questa veramente è tutto qua poi si può anche prelevare ecco non ve l'ho detto ma fa anche la stessa cosa con gli LP di Pancake quindi se voi andate a dare liquidità su Pancake come abbiamo visto prima ottenete l'LP anziché metterlo in stake su PancakeSwap potete metterlo qua dentro ok ad esempio vedete qua c'è BUSD USDT io vado a dare liquidità su Pancake ottengo il token LP qui mi dà il 39.4 che è maggiore di quello che mi dava Pancake perché qui in più ho il farming di auto attenzione tra l'altro che se io vado a dare liquidità al su Pancake ottengo il token LP sul mio wallet e poi salto qui su Autofarm non è che devo cambiare wallet è sempre lo stesso quindi non è che lo devo andare a spostare insomma anche se sono dei siti diversi se il wallet è lo stesso io faccio da una parte poi vado ad agire dall'altra senza ulteriori step l'ultimo è BUNNY Pancake BUNNY si chiama che in sostanza ve lo sto mostrando perché oltre a farmare i token BUNNY quindi avere un rendimento un po' più alto ha una funzione che è molto molto comoda che è quella di ZAP che cosa vuol dire allora Pancake BUNNY utilizza come sottostante Pancake Swap ok e vi permette in un solo click di andare a dare liquidità al pool e di iniziare subito a farmare cosa vuol dire allora supponiamo di nuovo di dare liquidità al pool BUSD BNB ne ho preso uno a caso vedete è possibile o fare aggiungere la liquidità col token LP oppure fare il direct ZAP quindi andare a swappare direttamente i miei BNB nel token BUSD BNB comodissimo questo perché di fatto lui mi va a fare tutte le operazioni senza che io le debba fare una alla volta senza fee aggiuntive estremamente comodo questo ZAP una volta fatto io li lascio qui li metto in staking i miei token LP e mi farmano questo APY che io vedo se io vado a selezionare il pool stesso io vedo da che cos'è composto l'APY ok quindi il pool bunny e la swap fee ok quindi queste sono i rendimenti che mi vengono dati che sono composti ovviamente tra Pancake Bunny e Pancake Swap stesso la componibilità è il comodo delle applicazioni di DeFi è ciò che le rende molto interessanti allora questo è quanto lo so è un video molto lungo ma io spero che vi sia stato utile ho voluto toccare diversi temi e cercare di toccarli nella maniera più completa possibile se avete altre domande sentitevi liberissimi di farle io ho cercato di farvi vedere tutto quello che reputavo utile alla fine i rischi ve li ho detti e queste piattaforme che ho selezionato le reputo le più sicure perché sono tutte oditate e sono quelle che hanno più liquidità e quindi le altre io ripeto andrei molto con i piedi di piombo cioè andare a dare liquidità a una piattaforma solo perché ha un APY galattico non è mai una buona idea è un po' un gambling queste quattro invece sono quelle un po' più sicure ok poi resta il fatto che di sicuro non c'è niente perché anche gli audit anche la liquidità non garantiscono nulla ma alzano di sicuro la confidenza che si può avere nei confronti della piattaforma stessa io vi lascio se avete domande fatele vi faccio un carissimo saluto e alla prossima